finito l'età mantieni un metro di distanza e un metro di distanza più lontano ancora io lo sapevo che puzzava di merda pure io votate votate e riattorano buttate 1 portate 1 fuori buttate 1 fuori tanto un minimo rapide vincenzo il bianco bianco sperma rimane ma che schifo ma che schifo fermi li sto facendo io non mi metto a manovrare ma che schifo che culo di merda guarda che culo di merda che culo di merda ma è schifo l'uomo dove stava dice danni era vicino al corpo ma se sono andato convincendo a fare le luci cazzo danni era dicino al corpo figli di puttana ciao marco che schifo guarda vincenzo comunque la merda mia aspetta no 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 vincenzo secondo me però ragazzi gli darei un'opportunità perchè hai detto che c'ha il maid dei cose e vabbè niente opportunità per te l'inice mi spiace mi è andata male l'inice niente opportunità comunque se volete vi posso dire chi è un impostore no 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 ma quello che ti ha ucciso l'hanno buttato fuori si sta affascinita di niente se non è lui comunque secondo me è giallo perché stava vicino guarda qua ma addio io lo sapevo io lo sapevo che era lui allora giallo verde e azzurro non sono e io non siamo giallo verde azzurro io restano quindi per la ipotesi restano il rosa marrone no e pure il rosa mi passavamo tutti quanti allo due di sopra tutti quanti tranne tranne vincenzo e febbre secondo me febbre ha fatto sempre corte sentito il vabbè non avete inciso nessuno perché non sono perché vogliono buttare bene ci vogliamo buttare pure let's vote brown dice non è a caso se buttiamo a lui e a te sicuro becchiamoli in vostro nooo cazzo era vincenzo allora è vincenzo io l'ho detto io l'ho detto dal inizio l'ho detto ron guarda come vincenzo che sono due bombe di vallespadre 2 e 2 guarda come la stai rincorrendo oh 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 che coglione che coglione che stupido che stupido era un che stupido non ce l'ha visto black l'ha visto e come se l'ha visto però sto strontando così e come se l'ha visto scrivi in inglese scrivi in inglese pezzo di buono no no non ci vedo te lo buttano fuori se c'è ma tanto poi rimani tu contro altri 3 ehm se la fai no no che non sono veramente ma veramente autistici are you sure about that? eh ciao vincenzo nooo ma non ci credo ma perchè non è una cosa con vincenzo no andi si credo perchè vincenzo ha il c**o di trovare sempre i mongoloidi come creumate quando lui fa l'imposturale Se è solo un killer lo buttano adesso, si ok 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 lo buttano adesso Vota subito Eh ma il fatto è che sti qua mongolodi sicuri non vanno a prendere il tasto Guarda che ritardaggio Dice che cazzo vai a fare la meddue? Aspetta però se ne uccide uno poi ne restano solo due quindi Vincenzo non può vincere lo stesso subito No non può vincere lo stesso Vai Vincenzo ammazza quello Ecco guarda se ci mettono 3 anni a fare la task e che so scarsi E guarda si allontanano pure Madonna ma perchè sono stupidi non vanno a trovare Trova i mongolodi Vincenzo quando a giocare contro gli altri Ma manco premono il tasto ma davvero fanno Nooo non lo premono Ma la domanda non sarà guarda quello Ma ne vanno Vanno a caso man Guarda Vincenzo Guarda Vincenzo Guarda Vincenzo Guarda Vincenzo Eh? E' so stupidi E' proprio stupidi sono Ma che ritardo Che ritardo No non ci credo Boh faccio la tasca in Italia Faccio pure al giallo Giallo dal giallo Dai Ma no ti dico di proprio con questi qua Io li caccio Con me li prego un cazzo li caccio tutti quanti C'è quando giocavi in centro trova sempre non gli autistici peggio E' la squadra sempre sempre porca puttana Poi quando gioco io beccano tutte e due me e l'altro beccano subito Quando gioco io Ma vincenzo vai a fare in culo vai Tu vincenzo vai a fare in filo vai a fare in giallo In un certo modo Per ora